Le polveri sottili non sono né di destra né di sinistra, ma vanno a destra e vanno a sinistra. Ne è convinta la portavoce del Comitato Nobio Massa di 9, Paola Ravanello, che ha fatto di questa frase il cavallo di battaglia del gruppo di residenti contraria all'impianto di Via Nodari, che torna nuovamente sotto i riflettori perché dopo il nostro servizio del 24 marzo scorso pare che qualcosa si sia mosso. A quanto pare bisogna andare in televisione per ottenere qualcosa. Infatti è stato rimosso il cippato vecchio, marcio, puzzolente, perché si sono lamentati tutti quanti, è stato ammassato vicino all'impianto e coperto con un telo. Finalmente abbiamo ottenuto qualcosa. Non è tutto però? No, sono state portate via anche tutti quanti i sacchi delle ceneri. E a quanto pare verranno portate via man mano che produrranno ceneri. Adesso vediamo poi come si evolverà la situazione. E le immagini parlano chiaro, il prima e il dopo sono più che mai eloquenti. Buon segno, viene da dire. Ma il comitato non intende arrendersi, chiede esige risposte, soprattutto dal comune. E sono pronti? Abbiamo in mente il ricorso al TAR, perché questa è l'unica soluzione che abbiamo. Il ricorso al TAR avrà un bel po' di carne a fuoco. Abbiamo trovato delle cose che non vanno, da imputare sia alla gestione, a chi gestisce l'impianto, e sia a chi ha dato i permessi per farlo. E intanto domenica il comitato scende in piazza Refabris con un gazebo informativo. Aspettiamo tutti, anche per fare solo due parole. Abbiamo bisogno di tutti quanti, di tutti i cittadini di Nove, per dire no a questo impianto, per dire che devono essere comunque controllati, e per dire che i controlli non devono essere fatti dopo una telefonata, ma anche a sorpresa, perché si sa come va in Italia.